questa è la salita per il passo di campaneda oggi 18 ottobre 2018 20 ottobre 20 sabato 28 ecco ci sono i laghi di campaneda e il monte disgrazia il pizzo scalino là in fondo e qui in diretta l'arrivo al passo e la roccia e il masso sono davanti siamo quasi arrivati l'aria è fredda ma c'è un bel sole è una giornata bellissima autunnale bellissima ecco che si intravede l'arco là in fondo siamo solo noi a camminare qui in alto ecco qua qualcuno si sta arrivando siamo tutti Grazie a tutti. Buongiorno, bellissimo qua, veramente bello, i miei cani non faticono per niente. Ci siamo quasi, guardate che bella vista, bellissimo. E' sempre un'emozione arrivare in cima o a un passo. Guardare dall'alto il mondo è una cosa meravigliosa, soprattutto se sei tu a fare gli sforzi. Wow. E poi c'è il ghiaggiaio del pizzo scalino. Da qui infatti si parte, si va avanti, si va verso la cima del pizzo scalino. Grazie. Grazie. Eccoci qua. E' un passo di campaniera, 2615, 203, 2018. E' un passo, ce l'abbiamo fatta. Ciao, un saluto. e' un passo di campaniera. Ecco. Buongiorno, questo ha il ghiaggiaio. Un pizzo scalino. Un po' di disgrazia. basta